In apertura di questa edizione con il Covid che entra nello spogliatoio della Leo Shoes Perkinelmer. I tamponi di ieri hanno certificato la positività del libero Salvatore Rossini e di un elemento dello staff gialloblu. Partiamo da qui. Il coronavirus entra nello spogliatoio della Leo Shoes Perkinelmer, il giro di tamponi molecolari al quale l'intero gruppo gialloblu si è sottoposto dopo le prime positività all'interno della squadra di serie B, ha certificato il contagio di Salvatore Rossini e di un membro dello staff. Il libero, che già era stato contagiato nel novembre 2020 quando vestiva la maglia di Trento e che è stato vaccinato come tutto il resto della squadra, sta bene ed è chiaramente in isolamento, mentre compagni e staff sono stati sottoposti a un nuovo tampone molecolare. Nel frattempo gli allenamenti e anche quelli individuali sono stati sospesi in attesa dell'esito dei nuovi test. Il protocollo della Federvolle applicato alla Superlega prevede che la squadra debba comunque scendere in campo per gli impegni ufficiali fino a un numero massimo di tre giocatori positivi al Covid. Se però dalla situazione attuale si dovesse passare a un vero e proprio focolaio, il match di domenica a Padova, ultimo del girone d'andata per Modena Volley, diventerebbe di conseguenza rischio rinvio, complicando un calendario già fitto di impegni. Sale a sei invece il numero di positivi all'interno della squadra di serie B, tra i giocatori e altrettanti membri dello staff.